Lecce, nel quartiere 167, arrivano le biblioteche di condominio, una rete di libri per diffondere la lettura di prossimità. Piccole postazioni biblioteca e angoli di lettura negli spazi comuni per la condivisione e lo scambio dei libri. E' uno degli esiti del progetto Asteroide B167, vincitore del bando La Scuola Attiva La Cultura, un progetto di rigenerazione urbana a base culturale nelle periferie della città. L'epicentro è il liceo Banzi, un collaboratorio in cui hanno preso esperienze partecipative, digitali, espressive di comunità, trasformando la scuola in una vera e propria infrastruttura sociale del quartiere. Un quartiere oltre il centro storico, non più zona grigia dove la città perde i suoi valori, ma luogo dove cittadini attraverso il progetto Asteroide B167 hanno condiviso gli stessi valori, le stesse emozioni e hanno imparato a celebrare la cultura dell'incontro. In collaborazione con il Comune di Lecce è stato possibile progettare le condoteche, biblioteche di condominio. Il liceo Banzi inoltre ha realizzato Bibbler, un'applicazione innovativa di book sharing che sarà il cuore digitale delle condoteche. Uno strumento tecnologico al servizio del libro cartaceo per generare una fitta rete di relazioni tra studenti di varie scuole che si scambiano esperienze e toccano le reciproche letture e abitanti del quartiere che a loro volta mettono in relazione i libri delle condoteche con cittadini degli altri quartieri della città.